Io non ho preso un po' preso a tutti i modi che oggi era po' certo, faccio un po' preso a tutti i modi, a tutti i modi, a tutti i modi, a tutti i modi, a tutti i modi. Grazie a tutti. 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 Sì, adesso si stiava ovun cimpo. E' un pozzo. Pizent, Prodanović, Prstet, Sirenić, Sitić, Soldić, Sraga, Šakoronja, Tomerenic, Turcinović, Velic, Laković, Leimler e Čajko. Nekako lako pripremaju i sada za kraj ovog birmajla, neka tu se stanu pored staze i kad bude zat i prošao ciljen, to je ujedno i kraj njihove skupine. Samo se odmaknut od fotofiniša, odmaknut se od fotofiniša, s razlogom je obrađeno. Pristižena nove da tijestate i evo neki su ovdje majce skinuli toko vruće ovdje na medljanja Pir Bajeranu. Ne, 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 ne provadzit fotofiniša, ne provadzit fotofiniša. Zatofiniša. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.